Bene ragazzi, rieccoci qui. Quindi come vi anticipavo prima, ora è tempo di parlare di UEFA Champions League. Andiamo con i risultati. Miggi ce l'hanno Young Boys 3 a 0. Poi eliminazione a sorpresa. Fereng Varos batte Dinamo Zagabria 2 a 1. Maccabi Tel Aviv Dinamo Brest 1 a 0. Karabag Molde vittoria ai rigori per i norvegesi del mondo. Omonia a sorpresa supera i rigori la stella rossa. Gent Rapid Viena 2 a 1. Eliminazione a sorpresa del Benfica 2 a 1 da parte del PAOK. Dinamo Gieva Zeta Alcumar 2 a 0. Poi ovviamente farò in seguito il video di presentazione delle sfide finali di UEFA Champions League. Quindi per ora è tutto. Stamattino con l'Evisa Rubato lo si indedico. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao.